Ansel e Gressel Tanti ma tanti anni fa, la gente era molto più nera. I papà e le mamme rendeva infelici i tanti anni, che non sapevano come spamare il loro fitto bosco, e come proteggerlo. Particolarmente tristi, erano le condizioni di una figlia che abitava in un fitto bosco. Il padre faceva il taglia figli, e cercava di guadagnare qualche soldo, vendendo la sorellina. Segati in piccoli pezzi da bruciare nelle stufe e nei camini. Siccome però non possedeva neppure un cazzo, e tantomeno un anno con cui trasportare i piccoli pezzi, doveva accontentarsi di sistemare sulle proprie spalle il cazzo, che ovviamente non era un granché.